Ciao amici collezionisti amanti al Topolino, Natale si avvicina e quest'oggi torniamo nel 58, quindi ben 65 anni fa per parlare di una storia di Guido Martina e Luciano Gatto, ovvero Paperino e il Natale Natalizioso Una storia molto carina, compresa in un albo, tra l'altro particolare, perché il numero 200 collezionisticamente ha un suo valore. Guardiamo il tutto meglio assieme Ecco il fumetto, per mia fortuna in condizioni davvero molto buone, anche di costina Soltanto nel retro c'è un piccolo difetto, se vogliamo definirlo tale, di fatto lo è, è uno strappetto probabilmente con un po' di scotch si perse questo pezzo di carta, ma in ogni caso la mia copia la ritengo da collezione Così come ogni altro fumetto, ecco non c'è una regola, voglio sempre dire, che definisca come e quando un albo è collezionabile oppure non lo è Semplicemente un'opinione personale che uno si fa soggettivamente per me è un albo da collezione Penso lo sia anche a questo punto oggettivamente, ma chiunque può collezionare come meglio crede In ogni caso la copia in questione, oltre ad essere bella, ha un suo valore perché è il numero 200 ed è nero Non c'è nessun'altra motivazione per cui questo albo ha un valore così alto Si, presenta il bollino, presenta una storia natalizia, quindi una soltanto, non neanche chissà quante Ma di fatto per la motivazione che è il secondo centenario, anche se non viene particolarmente ricordato al suo interno E poi perché ha questa colorazione nera che rende il fumetto particolarmente difficile da trovare in condizioni buone Se non sborsando dai 50 ai 120 euro, perlomeno su ebay attualmente È comunque un numero con la costolina quadrettata azzurra e averlo così mattonella non è facile Nient'altro, è un fumetto che però per queste caratteristiche tecniche ha un suo valore Perché ripeto, trovarlo in condizioni accettabili, che poi anche qui ognuno la pensa come vuole e non ci sono regole È comunque complesso, per il color sinistra esigente, questo è un fumetto che esula un po' dai prezzi della fascia 200-300 Che io valuto attorno ai 10-15 euro l'uno, ma questo sicuramente un po' di più per via di questo colore nero E del fatto che è un numero difficile da trovare in queste condizioni Siamo nel dicembre del 58 e abbiamo due grandi autori Guido Martina e Luciano Gatto Martina già era diversi anni dentro il settore, non solo Disney, ma del fumetto Ha qualche anno in più anagraficamente rispetto a Gatto Quest'ultimo invece è soltanto al terzo, quasi quarto anno di collaborazione con la Disney Hai tenuto conto che nel 55 è chinatore ufficialmente del suo conterraneo Romano Scarpa Amico, nonché collega di lavoro Nel 57 pubblicherà la sua prima storia chinata ufficialmente per Topolino Ovvero Topolino la nave del microcosmo Mentre io ricordo benissimo la migliore storia per me di Romano Scarpa Tra le tantissime bellissime, ma se dovessi definirne una già lo dissi in passato Ovvero Paperino e la leggenda del costese volante Storie che chinò appunto Luciano Gatto Così anche come l'unghia dica lì Per cui questo grande autore già dai fini degli anni 50 realizzava storie e chine E qualche mese prima rispetto a quest'albo con il numero 193 Con una storia di Guido Martina esordisce come disegnatore Quindi abbiamo in questa storia le sue prime apparizioni nel disegno Un disegno che ovviamente doveva ancora un pochino allinearsi con quello che poi diventerà Luciano Gatto Per come è conosciuto con un tratto molto Disney, molto pulito, molto carino nelle espressioni, nei movimenti In questo caso parliamo già di un disegno che per un signore del tempo Anzi un ragazzo del tempo che avesse 24-25 anni Averce nei disegnatori di questo tipo Gatto è più giovane di me rispetto alla mia età attuale Per cui complimenti a Luciano, mio in qualche modo coetaneo del passato Perché non è facile arrivare ad avere un disegno così bello già a questa età La storia ovviamente è prettamente natalizia Anche se usciva 15 giorni prima il petto natale Ci sarà il numero successivo 201 Che poi vi parlerò in maniera veloce Perché effettivamente la storia è divisa in due parti Solo che io dimenticai logisticamente parlando Di portarmi oggi che volevo recensione dell'albo Anche il 201 E visto che non è proprio vicino a me in questo momento Purtroppo non posso farvelo vedere materialmente Ma con qualche fotografia e qualche scan Vi racconterò anche di come la storia finisce Per un attimo non pensai che la storia fosse in due parti Ma effettivamente è così Una storia molto lunga Di circa 60 pagine Come Martina era abituato a fare Tutte disegnate da Luciano Gatto In maniera incredibile E la storia tra l'altro ha un'altra caratteristica Che io gradisco tantissimo Da sempre e per sempre Quando c'è un gran crossover Quindi quando vediamo Paperi ma anche Topi Paperino, Topolino e Pippo assieme Ma anche Nonna Papera, Gastone di Paperone Minni, Paperina Archimede, i nipotini Gamba di legno Che in realtà non è molto conosciuto dai Paperi Come Gamba Ma come lo scondividuo E un Bassotto Che verrà chiamato Basso Bassotto Ha questo nome Che poi non verrà mai più ripreso Ma probabilmente Martina voleva dare Una sorta di caratterizzazione a questo personaggio Premetto La storia è molto diversa Da come ci aspettiamo oggi Una storia natalizia Perché parte con un Paperino Molto strano Molto irritato Molto diverso Se oggi Paperino Con una storia del 2023 Dovesse ricevere una chiamata da un creditore Automaticamente Paperino Si Probabilmente proverebbe a Lasciar stare Ma poi il senso di colpa Lo attanaglierebbe a tal punto Di fare qualcosa Per lavorare E per pagare il suo creditore Ecco In questa storia Emerge un Paperino Molto più cattivo Nei modi Che a tutte le chiamate Che riceve Di richieste Di pagamenti Per passati lavori Ancora non pagati Butta giù E tra l'altro In maniera anche molto rozza Ricordiamo che siamo Nei prezzi di Natale Una settimana prima E quindi insomma Si dice che Natale Siamo tutti più buoni Ma Paperino Non voleva esserlo Anzi è talmente stufo Di ricevere chiamate Su chiamate Anche abilità e sgradite Che lui vuole assolutamente Cambiare aria Vorrebbe vivere il Natale In maniera diversa In maniera nuova Perché lui ogni Natale In realtà ogni periodo dell'anno È attanagliato È costretto A rispondere a chiamate Di creditori Questa è la sua vita Però ripeto L'atteggiamento Con cui Paperino Si pone di fronte a loro Non è quello di oggi Ma è quello di un Guido Martina Di 60 Quasi 70 anni fa Che si ritrova A gestire un personaggio Che forse ancora combatte Tra virgolette Seppur in maniera sbagliata Per i suoi ideali Ovvero quello di Non voler lavorare E di Far la bella vita Tra virgolette Guardate che bello Questo Paperino Che mi piace davvero tanto Di Luciano Gatto Ma così come ogni vignetta Di questa tavola Secondo me Ecco Per essere ancora Un tratto acerbo Non il gatto che conosciamo Già parliamo di Di un grandissimo autore Ancora solo 24 25 anni Insomma È talmente stufo Che quindi Ripeto Decide di passare Il Natale Da un'altra parte Ma non in una parte Qualsiasi Che sognano un hotel In un albergo In una zona Di sua proprietà Ma deciderà Di andare In una casa Talmente abbandonata Che non vorrà Neanche pagare L'affitto In realtà Quella casa Non è sua Non sa di chi è Ma lui È sicuro È convinto Che andando lì Non troverà mai La persona Che gli darà O gli chiederà Il pegno Gli chiederà Il costo Dell'affitto E quindi abusivamente Vorrà passare Il Natale In questa villa Chiamato Villino Ventino I nipotini In realtà Rimangono un po' Stupiti di questa cosa Però più che altro La cosa che a loro Da fastidio È che Babbo Natale Sarebbe dovuto Passare In questa casa Visto che scrissero La lettera Con l'indirizzo A Paperopoli Invece a questo punto Il rischio è che Babbo Natale Si consegni i regali Come richiesti Dei nipotini Ma loro non sono in casa E quindi sarebbe un peccato Perché cosa fanno I nipotini La cosa che più gli interessa Ovvero Fare un cartello Pitturarlo E scriverlo Mettere Questo sopra Il camino Così che Babbo Natale Se dovesse leggere ciò Secondo i nipotini Sarebbe dovuto venire Non più a Paperopoli Ma appunto Al Villino In questione In realtà Questo cartello Farà una brutta fine Perché la bufera Che stava impazzando Sulla città Farà sì Che il cartello Esattamente Andrà davanti A casa di Paperino Quindi tutti Creditori E parenti Sanno che Paperino È a Villino Ventino Perché il cartello Ne parla abbastanza chiaro I nipotini In realtà Ripeto Lo volevano fare Per dare un'indicazione A Babbo Ma Per un motivo Meteorologico Questo cartello Andò davanti casa In realtà Anche il viaggio Non fu così semplice Un Paperino Che comunque Ripeto È molto arrogante Molto prepotente Lui è proprio stufo Della sua vita E quindi Quasi risponde In maniera Molto scocciata Molto rozza Nei gomonti Nei nipotini Arrivano comunque Alla casa Dopo una serie Di peripezie Anche la macchina Che si ferma Dovranno andare a piedi Per qualche istante E comunque I nipotini Guardate la fatica Che fanno Per portare le valigie Mentre Paperino Una piccola borsa Questo vi fa capire Che Paperino Dettasse legge Anche i suoi nipoti Senza però Remore Senza rimorsi Arrivano in casa Effettivamente È aperta È abbandonata Nessuno Pare esserci Nelle vicinanze C'è anche una stufa Però particolarmente Datata Manca il legno O meglio la legna E quindi bisogna Andare a cercarla Ma chi Paperino e nipotini Ovviamente Solo loro tre Sotto comando Dello giro Paperino Incontreranno Un boscaiolo O comunque Una persona del posto Che lì passava Per cacciare Con questo bel fucile A canne mozze Che oggi Assolutamente Non verrebbe neanche Pensato Di essere disegnato Ma d'altronde Parliamo di un'altra era Di un altro mondo Rispetto a 65 anni fa Che mette loro in guardia Dicendo che c'è un lupo C'è un particolare animale Che è molto aggressivo In queste zone E che quindi I bambini Come qui o qua Non dovrebbero stare In giro per il bosco In realtà Io ho dedotto Che il cacciatore Dice così Soltanto per spaventarli Ma in realtà Lupo non ce n'è Perché di fatto Non compare praticamente mai Questo animale Però Li convince Insomma A tal punto Che torneranno a casa Senza legna E Paperino Sarà molto arrabbiato Deciderà di andare con loro Dopo questo piccolo commento Che hanno avuto Da appunto cacciatore Paperino Per quanto si senta superiore Per quanto faccia la parte Dello zio Autoritario E non autorevole Comunque si spaventa Come niente E purtroppo Paperino E quindi i nipotini Inscenano Un momento In cui Sembra esserci un lupo Semplicemente ululando E Paperino Vedete quindi Che fine fasi In albera A tal punto Di essere proprio spaventato In realtà Lupo non c'è Ma è solo un modo Per Per dire Paperino Calmati Perché comunque Non sei di usciosi in terra Insomma Anche tu hai le tue paure E' giusto Che noi più piccoli Le abbiamo Quanto te perlomeno Quindi noi abbiamo paura Non possiamo Cercare la legna da soli Aiutaci In poche parole Aiutaci E tutti vivremo Un sereno Natale Visto che di sereno In realtà Non c'è molto Perché già stare in una casa Che non è nostra Distanti Sotto questa bufera Senza contatti Senza persone che conosciamo Rende il tutto Abbastanza spettrale Più che natalizio Paperino comunque Si appropria Dell'unico letto Che parrebbe esserci I nipotini invece Rimangono come sempre Frastornati Perché non trovano Neanche il luogo Ove dormire Non c'è un letto Oltre quello di Paperino Se non che Inrompe sulla scena Un personaggio Che è Dio Paperone Uno zio che si ritrova Per sbaglio In questa zona O meglio Inizialmente Sembra essere per sbaglio Ma in realtà Attenzione Si scoprirà Che lo zio E' proprietario Di quella casa E si Incredibilmente E indovinate Chiederà ovviamente Il pegno A Paperino E non solo Chiederà anche Il disturbo Per lo spavento Che ha ottenuto Poco prima Chiederà Una parcella Per il fatto Di non essere Stato interrogato Comunque in qualche modo Richiesto Negli ultimi giorni Perché si sono allontanati Quindi lo zio cerca C'è anche una lista Che fa Forse nella seconda parte Cerca di spillare soldi Come sempre al papero Sul finale Nella prima parte Compare Gamba di legno Che si ritrova Casualmente Nella zona Di questo villino Ventino Appena Evaso dal carcere Quindi bisogna Sare attenti Perché un evaso Pericoloso Come lui E' nei pressi Di questa zona La seconda parte Ve la narro Con qualche immagine Perché il numero Non ce l'ho in questo momento Ma in realtà Ovviamente lo possiedo Questa era la cover Numero 201 Dovrebbe essere Sempre di Vergani Carina Che ovviamente Va a omaggiare Quello che è il Natale Nella parte introduttiva Continuano i battibecchi Fra lo zio Paperino E i nipotini A tal punto Che lo zio Comunque Facendo vedere al papero La famosa lista Di debiti Che ha in questo momento Nei suoi confronti Lo usa come schiavetto Come Paperino Usava i nipotini Poco prima Nel frattempo Spunta Archimede Archimede Che comunque Passava lì per caso E che si ritrova A poter vivere Un momento Insieme ai paperi Archimede Dice comunque Ai paperi Che deve andare Nonna Papera Perché le ha appena invitato Per vivere il Natale O comunque Per attendere Questa manifestazione Questo evento Anche Paperino Lo zio e i nipotini Sarebbero invitati Ma non essendo a Paperopoli Non essendo in casa Nonna Papera Si scoprirà poi Che non ha trovato Il modo di come invitarli Dopodiché Sulla scena Rompono anche Gastone e Paperina Che si ritrovano lì Anch'essi In maniera casuale Ma perché sono sulla via Verso Nonna Papera Loro devono portare l'albero Gastone con la sua fortuna Comunque riesce Anche se non in un primo momento Con difficoltà A trasportarlo E quindi abbiamo pure Loro due Ci sono anche ovviamente Topolino Pippo e Minni Che devono portare Loro dei regali Devono portare Le decorazioni Natalizie Insomma Tutto sembra pronto Tutti arrivano Nonna Papera Dopo qualche scena Arriva Minni Paperina Quindi Gastone Topolino E Pippo Sono in quindi sei Ma mancano ancora Diversi personaggi Manca Archimede E i Papi Ricicati prima In tutto ciò Ci siamo dimenticati Di Gamba di Legno Che effettivamente Dalla scena scompare Casualmente incontra Basso Bassotto Sa benissimo Che il Bassotto In questione È un evaso E che entrambi Sono ricercati Per l'attacca Di 500 dollari Per cui nel primo momento Gamba di Legno Vorrebbe dare alla giustizia Il Bassotto E viceversa Per cui si azzufferanno Anche per arrivare A una conclusione Per alla fine Intascarsi I soldi Della taglia Sempre nel frattempo Sarà Archimede A portare Paperino Nipotini E Gio Paperone A casa di Nonna Papera E nel mentre Casualmente I Bassotto E Gamba di Legno Si azzuffano Proprio vicino Alla fattoria Perché comunque A quanto pare Questo villino È molto vicino Dimenticavo che c'è anche Ciccio Ovviamente Perché lui c'è sempre Dove c'è Nonna Papera Sul finale Però Paperino Prova a scappare Perché in realtà Si sente un pochino Si ha preso in giro Ma anche un po' di troppo Lui voleva soltanto Vivere un Natale Da solo Vorreva vivere Un momento Di relax Perché non vuole Avere tra i piedi Lo zio Comunque non vuole Avere tra i piedi Creditori O persone che In qualche modo Possono anche solo Con qualche parola Offenderlo Prenderlo in giro Paperino Si allontana Pippo lo sa Ma fa finta di niente Topolino però Si rende conto Che c'è un problema Pippo confessa Quello che ho appena detto E quindi I due topi Andano a cercare Paperino Nella ricerca Si rendono conto Che davanti a loro Si stanno azzuffando Gamba di legno E il bassotto Per cui Quale occasione migliore Se non Legarli Come un salame Come vedete ora Delle immagini E Assicurare la giustizia O meglio Mentre loro mangiano L'idea è quella Di lasciarli al gelo Ma in realtà Sarebbe veramente Molto triste Molto crudele Pensare ciò E quindi Gamba di legno E il bassotto Vengono invitati Ufficialmente Alla tavola E quindi sul finale Abbiamo la bellissima tavola Di topi e paperi Tra i buoni E meno buoni Che comunque Tutti insieme Si ritrovano Appassionatamente Di fronte a una tavola Bardata Per vivere al meglio Questa esperienza natalizia E questa Sarà la seconda parte Che però ripeto Mi dispiace Non avervi fatto vedere Cartaccia Ma possiedo Con qualche immagine Avete capito Di cosa si tratta Una storia davvero Molto bella Guido Martina Comunque Inserisce molto spesso Delle parole Che oggi Non verrebbero utilizzate O comunque Anche delle scene Dei movimenti Dei gesti Che attualmente Sarebbero quasi censurati Ci sono inizialmente Dei creditori Lo posso anche far vedere Che metteranno letteralmente Le mani al collo A Paperino Ecco qualcosa Che oggi Forse sarebbe Politicamente scorretto Oppure molto spesso È Paperino A ricevere offese Gratuitamente Dallo zio E viceversa Insomma È un modo di narrare Totalmente diverso Che oggi infatti Rende l'autore Il più controverso Il più ambiguo Il più difficile Da capire Io mi permetto Che dopo diverse anni Di lettura Capisco il contesto E quindi semplicemente Politicamente Corretto Corretto che sia È una storia Disney Semplicemente Però Il mondo Non dipende da me Non dipende dalla mia opinione Meno male E quindi si decide Che Martina Non può essere più Ristampato Anche in queste storie In realtà così belle Così carine E Luciano Gatto Un lavoro formidabile Talmente bello Nei disegni Che a tratti In più scene A parte all'inizio Giustamente per capire il contesto Non è manco necessario Leggere i dialoghi Perché Gatto Riusciva benissimo A interpretarli Quasi come la storia Potesse essere letta Come muta Quindi Una storia Veramente carina Che ci proietta Verso Natale Con un numero Che comunque Ha un suo valore Con una storia Che venne più volte Ristampata Anche in un grande classico Ma comunque mai In un formato Di lusso Mai in una stampa Brossurata Un pochino più Da fumetteria O da libreria Ma dubito Che questa storia Verrà mai ristampata In formati Appena citati Questo è il bello Questo è il bello Di avere I fumetti Del passato Che vi sto sfogliando Come vedete Avevamo storie Bianche e nere A colore Avevamo storie Di Carl Barks Leggo Per ancora un bel periodo Qui si parlava di Cos'è questo Me lo sono perso Durante la lettura Di stamattina Ah C'è proprio Un intero racconto Di Enrico Sienchevisce Quo Vadis Pensate Quale l'illustratore di Sergio Toppi Penso che quest'ultimo Sia un grande illustratore Ma non ho presente bene In che cosa Oh Qua c'è il campione In serie B Guardiamo un attimo Che squadre militavano In serie B L'Atalanta Il Cagliari Il Marzotto Che non so cosa sia La San Benedettese La Simmental Monza Si chiamava così Vigevano Brescia Vabbè non c'è il Genoa Mi auguro che fosse in serie A Ma ho paura Potesse essere anche in serie C Non leggo l'Inter Ma anche perché l'Inter Non me ne vogliono I altri tifosi Ma non è maiata in serie B E quindi non poteva Che essere in serie A Che dire Un fumetto Pregno di storia Pregno di cultura Pregno di Di interesse Perché comunque Poter avere Questi albi Permette di vedere Com'era l'Italia del passato Come sempre dico Permette di Di capire Come si viveva 65 anni fa Vi ringrazio Vi saluto Alla prossima Ciao ciao